Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso, c'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di cinque persone si divideranno tre contro due e due contro tre, padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera.